In Calabria calano i nuovi positivi, i ricoveri e i casi attivi, ma ci sono altre 10 vittime che portano il totale a 353. I positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 175, domenica erano stati 340, ma con un numero inferiore di soggetti testati 1.329 contro i 2.424 e di tamponi fatti 1.416 contro 2.922. I casi positivi sono 10.341, meno 320 e inflessioni risultano anche i ricoverati in area medica 382, meno 8, in terapia intensiva 27, meno 5 e isolati a domicilio 9.932, meno 307. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 42, Catanzaro 1, Crotone 40, Vibo Valencia 43, Reggio Calabria 49. In Italia ieri i nuovi positivi al test sono stati 13.720, le vittime sono state 528. Il sindaco di Crotone Enzo Voce e Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, hanno avuto un lungo incontro domenica mattina. Tema della discussione è la situazione Covid in città e il progetto che Emergency sta avviando in collaborazione con la protezione civile presso l'ospedale cittadino. La città vi dà il suo più sincero benvenuto anche per alleviare il durissimo lavoro fatto dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio in questi ultimi mesi, ha detto il sindaco Voce. Siamo contenti di poter dare una mano ai colleghi che hanno gestito finora una situazione difficile con grande fatica. In una situazione come questa, ha detto Strada, sono convinto che chiunque possa debba dare il suo contributo. Emergency gestirà il reparto Covid-2 con 23 posti letto all'interno della struttura a cui, in caso di necessità, si aggiungeranno 8 posti letto nelle tende montate dalla protezione civile. Un centro d'eccellenza per la produzione di anticorpi monoclonali attualmente impiegati per la cura del Covid e in campo oncologico sorgerà alla mezzia terme con un investimento di 20-30 milioni di euro e una ricaduta occupazionale per almeno 100 persone, fra ricercatori, collaboratori e impiegati. Si chiamerà Renato Dulbec Institute dal nome del premio Nobel nato a Catanzaro. A ospitarlo sarà la Fondazione Mediterranea Terina nell'area ex-sir di la mezzeterme, teatro di uno dei più clamorosi fallimenti industriali del sud e del paese e opererà in simbiosi con la vicina Università del Capoluogo Calabrese. Sarà il primo tassello di una rete di centri d'eccellenza a cui lavora l'ex presidente della regione Giuseppe Ennistico, farmacologo di fama internazionale che da luglio si è trasferito nella città calabrese per realizzare il suo progetto illustrato nei giorni scorsi al nuovo commissario alla sanità Guido Longo. Ripartono caccia e pesca sportive in Calabria dopo il passaggio della regione da zona rossa d'Arancione. Il presidente facente funzioni Nino Spirli ha firmato una nuova ordinanza, la numero 94, che riguarda le disposizioni successive alle entrate in vigore del decreto legge numero 158 e delle DPCM dello scorso 3 dicembre che consente, secondo precise modalità, l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca sportiva e dilettantistica. Credo che questa ordinanza metta un po' di ordine nella ripresa, nello svolgimento dell'attività venatoria, che sarà peraltro autorizzata nel comune di residenza dei cacciatori, nell'ATC di residenza venatoria e nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione. È chiaro che l'attività venatoria in Calabria sarà limitata ai soli residenti in Calabria e potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Allo stesso tempo è autorizzato l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e dilettantistica nel comune di residenza o nei comuni limitrofi nel caso in cui non sia possibile lo svolgimento nel comune di residenza. Dà la Regione un ulteriore aiuto alle aziende calabresi del comparto florovivaistico segnate dalla ripercussione economica e negative della pandemia. Lo comunica l'assessore regionale agricoltura e risorse agroalimentari Gio Luca Gallo che dà notizie della pubblicazione del Bando per l'erogazione di sovvenzioni finalizzate a compensare, almeno in parte, le perdite subite dalle imprese agricole calabresi operanti nel settore del florovivaismo. L'iniziativa è scritta in una nota e riservata alle imprese agricole che risultino alla data del 31 gennaio 2020 attive e iscritte alla Camera di Commercio con i codici ATECO 1-19-10 coltivazione fiori in piena aria 1-19-20 coltivazione fiori colture protette 1-30-00 riproduzione delle piante nonché le aziende che risultino attive alla data della presentazione della domanda di sostegno e che per effetto delle restrizioni imposte a seguito della pandemia del Covid-19 abbiano subito perdite di fatturato oltre il 33,33% la dotazione finanziaria del Bando annualità 2020 e para un milione di euro. Chi si sposta quotidianamente tra il Tirreno e lo Ionio deve farlo con i mezzi pubblici e costretto a vivere una vera e propria odissea. Che sia la Locri del Crotonese o la Sibariti della storia è sempre la stessa. E' quanto afferma il consigliere regionale Nicola Irto dell'EPD sulle enormi difficoltà incontrate dai pendolari che si spostano lungo le due direttrici con situazioni paradossali inaccettabili per un paese civile come le 6 ore che in alcuni casi sono necessarie per spostarsi da Crotone alla mezzia terme. Per l'esponente Democrat la politica calabrese deve smettere di litigare e continuare a rimbalzare le responsabilità da una parte all'altra. L'aggiunta regionale che ha la competenza in materia, dice Irto, esca dalla quarantena e affronti la nostra questione con Trenitalia, dandosi finalmente da fare. Serve un'offerta razionale di mobilità in grado di assicurare una connettività efficiente e collegamenti intermodali intelligenti. E' assurdo, ad esempio, conclude Irto, che il personale regionale che deve raggiungere la cittadella Catanzaro debba muoversi nella stragrande maggioranza dei casi con mezzi propri. Io le avevo una visione concreta del futuro della Calabria e per questo adesso che non c'è più, anche se ne voglio parlare al presente, sono onorato di far parte di un'aggiunta in cui ogni assessore sta dando il meglio di sé, esattamente come era nelle aspettative del nostro Presidente Santelli. Lo ha detto Nino Spirli, Presidente facente funzione della Regione, introducendo alla cittadella i lavori di presentazione del ciclo di webinar, incontri formativi e informativi via internet sui rischi naturali e antropici. Credo che sia uno strumento molto importante. L'assessore Savaglio ha fatto un miracolo e devo dire porta avanti quella visione avveniristica che il Presidente Santelli ha portato in questo palazzo. La Calabria, due emergenze fortissime, ha sostenuto l'assessore regionale all'Università a Savaglio che sono Sanità e Ambiente. Per quest'ultima, grazie ai seminari, i professori universitari trasferiscono ai sindaci i mezzi per risolvere le questioni. Le amministrazioni e i sindaci devono sapere che ci sono questi strumenti che l'Università mette a disposizione, sono mezzi che ha pagato la Regione alla fine, quindi si dovrebbe chiudere il cerchio, sarebbe proprio l'ideale se questo succedesse. E partiamo proprio con il seminario, il primo seminario, non voglio sbagliarmi, mi pare che sarà il 15 dicembre, sarà sui rischi idrogeologici, quindi frane dovute alle alluvioni, al tempo diciamo così. Per riportare le Università della Calabria, la conoscenza, il talento delle Università della Calabria, al centro della progettazione nella Regione Calabria, insieme e a disposizione dei sindaci, dei territori, per costruire nella condivisione, guidati dai ragazzi nostri delle Università, una Calabria che è il centro dell'Europa e il centro del Mediterraneo. Per il Presidente di Ancicalabria, Candia, i sindaci e i comuni hanno la necessità e la voglia di avvalersi di questa occasione. A spiegare il sistema integrato di laboratori per l'ambiente in Calabria, SILA, è stata Vincenza Calabro, docente, che ha parlato di un sistema integrato di laboratori e infrastrutture per l'erogazione sia di servizi di ricerca e sviluppo industriale, sia di servizi scientifici e tecnologici, dedicate al monitoraggio, al controllo e alla tutela dell'ambiente. A Vibo Valencia e frazioni, scuole chiuse fino al 22 dicembre, la decisione è stata presa dal sindaco Maria Limardo, che ha emanato un'ordinanza ad hoc, differendo il termine che sarebbe scaduto il 9 dicembre, della ripresa in presenza delle elezioni per gli alunni fino alla prima media. A pesare sulla decisione del sindaco, il fatto che persiste un rischio di contagio medio-alto che costringe a rallentare la curva di crescita, rendendo necessario ridurre le occasioni di spostamento delle persone fisiche e, tra queste, rientrano le attività didattiche in presenza. Pur in presenza di un lieve miglioramento della situazione, la Limardo ha evidenziato l'esigenza di tenere presente il possibile impatto del contagio familiare rispetto alla frequenza delle attività didattiche dei bambini e, rilevato poi, che a seguito della riapertura delle scuole con la didattica in presenza, si rischia di determinare un continuo aumento della diffusione epidemica, in considerazione che le scuole rappresentano un luogo di aggregazione in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è complicato e la possibilità di trasmissione del contagio di origine domiciliare è amplificata. Percepivano i buoni covid senza averne diritto, per questo i carabinieri della Compagnia di Bianco hanno denunciato 135 persone residenti nella Locride, in particolare sulla costa Ionica, ritenute responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Gli indagati hanno in molti casi legami con l'andrangheta, tra loro anche un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, già percettore del reddito di cittadinanza, nonché la sorella di un latitante che nello stesso mese in cui ha percepito il buono spesa covid-19 ha anche sottoscritto buoni fruttiferi per il valore di 7.000 euro. Oltre alla metà delle persone coinvolte risiede nel comune di San Luca. Sono stati sottoposti a fermo da personale della squadra mobile di Crotone i presunti scafisti dello sbarco avvenuto sabato scorso. Si tratti di tre cittadini ucraini accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nell'occasione nel porto di Crotone sono giunti 75 migranti provenienti da Afghanistan, Iran, Iraq e Ucraina, soccorsi a largo da un'unità della guardia costiera, mentre si trovavano su un barcone alla deriva e trasbordati sull'unità militare. Le attenzioni degli investigatori si sono subito concentrate sugli unici tre ucraini che si trovavano in disparte dagli altri migranti. Un controllo dei loro apparati cellulari ha fatto emergere elementi al loro carico. Inoltre sono stati sentiti alcuni dei migranti che erano a bordo del barcone e adesso nel Regional Hub Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Sulla base degli elementi raccolti per i tre è scattato il fermo e sono stati portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Familiari diretti di elementi di spicco della cosca di Indrangheta, Bellocco, Pesce di Rosarno, percepivano il reddito di cittadinanza Gioia Tauro e Rosarno nel Regino, dove i carabinieri con il supporto specialistico dei militari del nucleo ispettorato del lavoro nell'ambito di un'operazione denominata Jobless Money II, hanno denunciato 50 persone in seguito alle verifiche condotte su 1.500 posizioni. Diverse sono state le anomalie emerse dagli accertamenti tra i denunciati, figurano personaggi già condannati per l'associazione a delinquere di stampo mafioso e figure apicali dell'Andrangheta del mandamento tirrenico, ma anche donne che intenzionalmente avrebbero omesso di segnalare agli enti competenti all'erogazione del reddito di cittadinanza, la presenza all'interno del proprio nucleo familiare di soggetti detenuti, già elementi di spicco della locale consorteria di Indrangheta, gravati da misure cautelari personali o condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Di sicuro ci mettiamo alle spalle un precampionato, perlomeno le prime dieci di campionato molto ma molto difficili, se non impossibili sulla carta. Abbiamo dimostrato e lo ribadisco perché voglio anche farmi portavoce della squadra che noi in questo campionato ci vogliamo stare e la squadra ha dimostrato di saperci stare. Non dobbiamo mollare perché la cosa più difficile in questo momento è avere soltanto due punti, essere ultimi in classifica e quindi non è facile ricaricare le batterie, credere ancora in quello che si può fare ma di sicuro è alla portata. Io per primo voglio davvero metterci la faccia e dire che questa squadra si può salvare la grande. è stato 3 ottobre nella seconda giornata di campionato all'esordio al Granillo contro il Pescara finì 3 a 1 per gli Amaranto. La squadra di Toscano ha dovuto attendere diverse settimane prima di poter gioire nuovamente. Dopo una serie di pareggi e sconfitte sabato è riuscita a battere il Brescia 2 a 1. Vantaggio calabrese al 51esimo firmato a Lorenzo Crisetig su assist di Nicola Bellomo. Quasi immediato il raddoppio ad opera di German Dennis dopo solo 5 minuti con un calcio di punizione pregevole. Ma il Brescia torna in partita 3 minuti dopo con Ragusa. Una vittoria che fa finalmente respirare e porta la regina a 10 punti in classifica. Risultato a parte la squadra ha finalmente offerto segnali di ripresa confortanti. I segnali sono confortanti anche sul fronte rosso-blu del Cosenza. Prezioso punto esterno conquistato dalla squadra di Roberto Chiuzzi nel freddo di Vicenza. Termina 1 a 1 tra i Veneti e i Calabresi. Vicenza in vantaggio al 71esimo ripartenza ficcante di Giacomelli che innesca a Meggiorini che di prima intenzione con un sinistro a giro Gela Falcone infilando sul secondo palo. Il Cosenza alla disperata ricerca del pareggio lo raggiunge all'86esimo con Tiritiello difensore con il vizio del gol che sbuca di testa in aria e batte l'ex Perina. Un ottimo risultato su un campo difficile per i Lupi che consente di muovere la classifica. E va bene alle Calabresi anche in Serie C. Si impone nettamente 3-1 il Catanzaro sulla Turris mentre la Vibonese coglie un punto tanto prezioso quanto meritato a Teramo sul campo della terza forza del campionato. Bella gara tra Catanzaro e Turris allo stadio Ceravola. Alla meglio la squadra giallorossa allenata da Calabro che ribalta un incontro che la vedeva sotto per la rete al ventitraesimo di esempio. Lo stesso calciatore Corallino protagonista in negativo quando alla 36esimo si fa buttare fuori dalla direttore di gara per somma di ammunizioni. Le aquile calabresi ne sanno approfittare ed impattano con Risolo al 44esimo. Dopo l'intervallo diventa un assedio la Turris pensa solo a difendersi e Dile Catanzaro si prepara all'assalto. Il castello Corallino regge fino all'ottantesimo quando Evacuo sblocca nuovamente il match portando avanti i calabresi. La Turris fallisce un'occasionissima divorandosi la palla del 2-2 con Pandolfi ed allora nel recupero il Catanzaro chiude definitivamente le ostilità con Davis Curiale che corona una giocata pregevole di Carlini realizzando il 3-1 che chiude qualunque discorso. Con questi tre punti il Catanzaro supera proprio la Turris in classifica e si porta solitario al quarto posto dietro il Teramo bloccato in casa da un'ottima Vibonese. Rosso-Blu calabresi avanti con il solito Plescia che continua a segnare poi il Teramo la ribalta con Ferreira. Toppietta per lui ma nel finale sugli sviluppi di un corner battuto da Statella Tumbarello con la destro di prima intenzione indovina l'angolo giusto e batte Lewandowski. 2-2 punto strameritato per la Vibonese. Nel basket prima sconfitta interna a seconda stagionale per Catanzaro che si arrende a Ruvo di Puglia che spugna il Palagiovino 94-84. Ottima la prestazione del nuovo arrivato Pasquale Battaglia protagonista con 28 punti ma non è bastato. Gara sostanzialmente in equilibrio fino al terzo quarto all'orché Ruvo si stacca e spacca la partita. Dall'altra parte Occioa, Cantagalli, Dincic, Checovic e Basile su tutti. Prima sconfitta in campionato della Viola Reggio Calabria contro Molfetta pesano e molto le assenze di Genovese e Gobbato. Non basta la super prestazione di un fantastico Giulio Mascherpa né il cuore di tutta la squadra. Non riesce la rimonta in ero arancio, troppa la fatica, negli ultimi 5 minuti la squadra perde lucidità. La parola fine è un minuto dal termine pronunciata da un super gambarota con una bomba dalla lunga distanza. Finisce 68-63 per i pugliesi che trovano il primo successo in serie B.